Eccoci qua sul nostro Play Store. Andiamo in alto. Scriviamo River Cove App. Adesso l'avevamo appena cercato. Ecco qua la scritta River. Come vedete è molto semplice come anteprima. Installiamo. Vi ricordo di scaricarla, almeno è utile. Molto utile, anzi. Adesso man mano vi mostriamo come utilizzarla. Allora apri. Qui. Qua potete scegliere se vederlo ogni volta che lo aprite oppure no. In questo caso noi mettiamo non mostrare più. Ok. Allora si può passare attraverso... Dovete registrarvi. Registrazione gratuita. Allora si fa registra. Vabbè, nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, data di nascita, città e una password. Dovete selezionare se di accettare, eccetera, eccetera. E poi la sezione sconna la... Diciamo lo scopo di marketing che io ve lo consiglio in modo tale che avete delle offerte personalizzate. Ok. Adesso facciamo anche noi un attimo la registrazione e vi mostriamo come entrare. Eccoci qua nella pagina dopo la registrazione che vi ho mostrato prima. Noi, vabbè, l'abbiamo compilata. Potete visualizzare le avvertenze e le precauzioni dell'utilizzo dell'incubata, dell'incubatrice, come fare l'incubata, eccetera. Potete leggere come conservare le uova, come selezionarle e altri dati. Vedete? Avete anche in aggiunta un grafico. Adesso vediamo se si apre. Eccolo qua. Come potete vederlo. Con i vari periodi, mesi, gennaio, febbraio, con i valori della fecondità, delle uova. Adesso andiamo indietro. E avviamo il tutorial. Allora, come sempre, avete le due voci che avete visto prima. Adesso facciamo no grazie, in montale che vi facciamo vedere come usarla. Allora, nome dell'incubatrice. Potete assegnare... cioè, dovete assegnare un nome alla vostra incubatrice. Facciamo aggiungi. Si può scegliere tra le tre grandezze della River, da 12, da 24 e da 49. Oppure potete, ad esempio, scegliere un'altra marca. Noi torniamo indietro. Noi abbiamo un ET Super da 49, quindi ET Super 49. Allora, nome, mettiamo River ET Super 49. In modo tale che se un domani vogliamo aggiungerne delle altre, si può fare. Ora vi chiedo il codice seriale. Il codice seriale lo trovate appiccicato nel retro dell'incubatrice. Indicativamente vicino alla presa di nebula, sul coperchio bianco. Oppure lo trovate anche all'interno delle istruzioni nella prima pagina. Adesso noi l'abbiamo incollato nella prima pagina, dove c'è la dichiarazione di conformità. e andiamo ad inserire il nostro codice seriale della nostra incubatrice. Allora. Zero. Zero. Ok, dovremmo averlo messo giusto. Vediamo un po' registra. Eccola qua la nostra incubatrice. Possiamo selezionare gli accessori. Noi abbiamo... È automatica, quindi abbiamo un motore Ovomatic. E abbiamo anche l'umidificatore in nebula collegato. Ok. Vi chiede la tipologia di uova che volete incubare. Come vedete c'è tanta scelta. Abbiamo quali gallina, fagiano, faraona, aquaglia, pernice, tacchino. Come vedete ne abbiamo tantissime. Si può aggiungere anche altro. Allora. Noi in questo momento stiamo incubando uova di gallina. Quindi gallina. Ci chiede quante uova abbiamo. In questo caso noi ne abbiamo messe 39. Avanti. Ecco. Vi mostra i dettagli su come avviare l'incubatrice. Dove metterla. Che valore impostare. Eccetera. Avanti. Ovviamente vi ricordo di sanificare la macchina. Si può fare in vari solitamente. Se si usa spesso noi quando facciamo la pulizia facciamo anche la sanificazione e dopo la utilizziamo. Avanti. Adesso vi fa... Adesso vi fa... Vi mostra come usare... Dove mettere e come usare l'incubatrice. Vedete ci sono tutti i vari step. Come montare il girauova e collegarlo. Dove mettere l'acqua. Eccetera eccetera. Eccetera eccetera. Vedete tutti gli step. Avanti. Allora noi l'incubazione l'abbiamo iniziata ieri. Quindi avanti. Temperatura impostata 37,7. L'umidità noi l'abbiamo portata al 50% con nebula. Ecco qua. Vi dà direttamente il calcolo della schiusa delle vostre uova. E vi consiglio anche di spostare le uova ogni 5 giorni. Noi lo stiamo facendo quando facciamo l'asperatura. Quindi al decimo giorno invertiamo quello al centro verso l'esterno. E... Solo una volta. Però di problemi particolari non ce ne sono. È giusto per l'omogeneità di schiusa. Il tempo è tra 21 giorni perché sono galline. E adesso torniamo nella home page. Ecco qua. Abbiamo le nostre incubate. Ovviamente adesso abbiamo quella in corso. Mancano 20 giorni. Oppure avete anche la pagina con quelle concluse. Se ne volete, se avete più macchine basta aggiungere incubazione. E andare avanti e rifare la stessa procedura. Noi in questo caso ne abbiamo una sola e ci si presenta questa pagina. Se clicchiamo, vedete? Allora, attività. Verificare il corretto funzionamento. L'abbiamo fatto. Vi dà tutti gli step da seguire. Controllare il livello del servatoio di nebula. In modo tale che evitiamo che vada in allarme per poca acqua. Controllare la temperatura che sia ok sull'incubatrice in modo tale che non ci sia particolare problematiche di anomalie. E controllare le nebula. Vedete? È molto semplice di attività. Basta cliccarle. Ovviamente noi adesso le abbiamo fatte tutte. Tranne quella serale perché siamo al pomeriggio. Poi vi fa vedere come fare l'asperatura. Prima asperatura. Seconda asperatura. Noi la prima la facciamo dieci giorni e una seconda al diciottesimo quando la togliamo dal giro uovo. Parametri. Vi consiglia come utilizzarla. Le temperature di incubazione, temperature degli ultimi tre giorni. La vaschetta. Se riempirne una, rispirne due. L'umidità. Suggerita. Sia durante l'incubazione che gli ultimi tre giorni in fase di schiusa. Vedete? Schiusa. Ci sono tutte, si possono annotare varie robe. Le statistiche delle uova feconde. Vedete? Prima, seconda. Tutte le varie statistiche di schiusa. In modo tale che ognuno può avere le statistiche di tutte le sue incubate. Non solo di quelle in corso ma anche di quelle finite. Come sono andate. Vedete? Anche non schiusi. Morti nel guscio. I nati. Tutti i vari... Vari possibilità che ci possono essere. Adesso noi non abbiamo ancora fatto nulla di queste operazioni. Però quando le faremo, vi mostriamo come registrarle. Ora vi diamo un'anteprima. Vedete? Basta più o meno. Adesso le azzeriamo di nuovo. In modo tale che non va a influire sui nostri parametri di schiusa. Ed ecco qua. Torniamo alla home. Abbiamo la nostra pagina semplicissima. Quindi mi raccomando, scaricatela. E divertitevi. E divertitevi. Avete tutte le vostre statistiche. Quindi sia per gli autori amatoriali che anche per quelli professionali con più incubatrici, più scuse, diverso tempo, diversi tipi di animali. Tutto perfettamente registrato sull'applicazione. Più semplici di così? Non lo so. Più semplici di così?